Musica Ultimo Salone Mobile 2016 Raggiungo un baio di ragazzi che esponevano i loro piccoli gioielli su una sorta di bancarella dei gelati Allora vi posso assicurare che non appena io ho detto Vengo dalla Sicilia e hanno detto ma guardi sa professore che nel nostro giro si parla della Sicilia come il posto in questo momento più innovativo nell'ambito del design E io ho pensato è come voi voi lo sapete e noi no? Vedete noi abbiamo pensato che chi fa nel Mediterraneo non riesce a comunicare in una maniera corretta ciò che fa Non arriva semplicemente L'isola che non c'è quando Carlo mi disse questa cosa io dissi Carlo non è un po' eccessivo questo titolo Mi fa guarda che l'isola di fatto non c'è ma non perché non esista naturalmente Semplicemente non arriva Una rivista quale valore ha? Ha il valore di comunicare quanto di buono c'è Il design siccome esprime positività La rivista serve per comunicare la positività Il percepito positivo che in questa isola c'è C'è ed è vivo ECHO 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 ECHO